Sono il divino, la divinità di questo canale. Per ottenere la mia benevolenza, premi la campanella e se l'hai fatto in questo momento, lascia un commento con scritto hashtag torrecampana. Inoltre, passate da Instagram per i contenuti sacri di questo canale. Buona visione. Salve a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video dell'Extreme Crazy Lock a Pokémon Bianco 2. No, non ho fuso i miei neuroni ragazzi. Quest'oggi siamo con un episodio, comunque video della Crazy Lock molto particolare perché andremo a fare una sorta di reazione al video del Funny Montage che è stato fatto da un ragazzo di cui trovate il video originale in descrizione fino al momento di adesso della Crazy Lock, quindi fino agli ultimi episodi. In sostanza. E niente, ho pensato che piuttosto che andare avanti aveva senso fare una reaction per rivivere i momenti migliori e vedere un attimo di riderci tutti assieme. Entrerà comunque a far parte della playlist della Crazy Lock, quindi è un video della Crazy Lock a tutti gli effetti. Quindi ragazzi, direi che non vi rubo altro tempo, vi invito a lasciare un bel mi piace se volete altri video di questo genere, altri Funny Montage in corso d'opera. E niente, direi di iniziare subitissimo con la reazione. Questa serie qua sarà tutto un'ansia, io ve lo dico. Ok, perfetto, iniziamo subito con la citazione perfetta. Ok, questa parte qua del video in realtà l'avevo già vista, però la citazione fa sempre effetto. Ok, qua è quando ho dato il nome al rivale. Quindi nulla, abbiamo qua F, Tony F. Che è il nostro rivale di questa regione. Ma no, tra l'altro raga, che brutta qualità che aveva la facecam. Mamma mia. Troveremo sicuramente sopra un Mega. Certo, bravissimo. Nella scorsa Crazy Lock... Allora, io non mi ricordo quello che ho detto nei video, perché io vado in extra di Mystica, quindi non so chi. Vediamo se sono allo stesso livello. Aspetta. Ok. Ok. La scelta dello starter. Non è un leggerario, ma è comunque una divinità. Andiamo su quello che dovrebbe essere... Madonna, raga, quante stronzate che sparo. Ho passato il denominato di tipo acciaio. Sì. Drapion. Ok, questo è il nostro Cine Inge, perfetto, tipo roccia. Drapion sarebbe un ritorno... L'ultimo, oddio, l'ultimo non mi ricordo chi fosse raga, era tipo un disastro sicuramente. Un cancro per il Nazalip. Infatti, l'avevo detto, me l'aspettavo un po' su un timore. Comunque non so se taglierò qualcosa, o comunque farò durare il video per tutta la durata, penso di tagliare qualcosa. Hashtag il trapper nei commenti, rivali tra... Raga, vorrei una compilation degli hashtag che ho mollato in sta serie. Mamma mia, raga, se mi sto infognando di sta mesta, non laggavi. Perché mi devi far bestemmiare? Comunque, beh, raga, dopo se ne va a lagga. Sorella di F... Certo, così, no? Bella l'lagga e scialla. La tua troia che mi conosce bene, ha fatto pare. Era molto black questa, devo ammettere. La sorellina piccola che è la troia che mi conosce bene era molto black, non avrei dovuto. Una lega Pokémon dovevi... Oddio, questa è una perla. Quattro sono membri della DPG. È tipo il capo e si cliucca. Eh? Ma che trama? Questa è... Pokémon e schiere e Pokémon pupu. Questa è una perla di saggezza, raga. Questi revival sono belli, raga, sono bellissimi. Ti piace. Mi piacere, cazzo sei piton. Oh, 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 oh. Grazie. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ma perché c'è qualcosa? Solo esiste, quindi ha solo, solo esiste... Ah, un berroè. Hashtag, più, raga. È il supereroe, proprio. Oltre, oltre John Frog. Adoro, raga, è bellissimo. Femmina non ci ho pensato, dettagli Piton Morso con 105 di potenza, raga Non è un morso, è proprio una magnata Del cenone Mamma mia beccata con 150 di potenza Raga ma quante cazzate sparo nei video Però io non me ne accorgo a volte Cioè davvero No, lo sto facendo raga Non mi ricordo Ah sì, qua mi segno, mi faccio il promemoria Me lo ricordo Guardi che roba Che poi non ci ho scritto niente in realtà Perché non riuscivo Guarda che roba Il vetro Raga bellissimo Andate a vedere quello di c'era in descrizione Andate a lasciare like, fate tutto quello che volete Aspettare Guarda come sclero Giustamente Guarda che sono proprio uno sclerato della Madonna Che io non vorrei dire Tra l'altro è carino, mi piace È fatto bene Cioè i tempi comici giusti Mi piace Oddio saranno 20 minuti di agonia Raga se è tutto così non posso tagliare Cioè nel senso Se è tutto così non posso fisicamente farlo Chi è questo? Chi era? Ma chi era? Hashtag ventattoria ventura raga Magari Io sclero guarda lì Era appena finita la finale Lo spareggio raga Raga è vero Andate su Instagram per vedere i galli in città Perfetto Prima medaglia conquistata Medaglia che in Pokémon nero Oddio che cosa figa Devo farlo anch'io raga Mi piace Con il divino Ti odio Mi ero dimenticata che c'ho un timore al cervello Quindi sto per morire Dai No veramente Non ti sopporti Mi avevo perso del terramente un tempo Raga è una sensazione strana rivedervi così in video davvero Muori sfogata negli acidi Madonna che cattiveria Raga che poi Mi sembrerà strano no? A me viene da ridere riguardandomi Rivederli dopo un mese magari Mi spezza Io non c'è cosa fare Tra l'altro deve essere un lavoro lunghissimo Quindi grazie anche a chi l'ha fatto Perché Guardatevi in ginocchio in questo momento E lasciate like Guardalo Per quello che avete appena visto Doppio tentennamento Sembra veramente che Gesù mi stia assistendo Aia le ginocchia mi fanno Ah a caso Ero in ginocchio veramente raga Io me la son persa questa Ok perfetto Un trisone in pratica No Non si dice Salutone a Tia Ti ci sta ascoltando Ciao Tia Un piacere Un piacere veramente Raga non dovevo dirlo E' stata bruttissima Cosa è successo? Intanto Tia Aiuto ho paura Dio Cristo che infarto Non ci credo che l'ha fatto veramente Oddio Oddio L'AX mi sta dando Gesù Cristo Raga quanto lo invoco Gesù Senza essere interrotto Senza essere interrotto Allora Lui è il padre di Velia Che la comestra Dovrebbe fare il capitano della nave Ma decide di andare a fare film Effettivamente La mia reazione è stata più che giusta Dai L'abbiamo pensato tutti ragazzi Che cazzo vuol dire Un capitano che va a fare i film Ma da dove? E' come se siete su un aereo Occhio Occhio la perla Per lavoro A New York Capitano scende e dice Da domani faccio il porno a Tora Io perché non me ne ricordo certe cose A questo punto ragazzi Visto che siamo qua La cosa direi anche di farla Visto che comunque Raga sono fantastico E allenare un pokemon fuori parte Non sarebbe male Occhi chiusi Un poco È una barba Incredibile Oddio c'è un frog Non ci voglio Con piccinini Con piccinini di sottofondo Raga è veramente Una cosa fantastica Guardalo Guarda la soddisfazione di nuovo Abbiamo appena catturato L'eroe Pokemon Gelino Terra Elettro Giungendo qui finalmente A Zondogno Oddio L'inizio Cosa ho detto l'inizio? La cattura del secolo Mamma mia Ma questa me la ricordavo Ma È vero È vero che L'avevo scritto male Oddio Che revival Che revival Che revival E dai Che merda Che faccio schifo a volte Raga davvero 10 10 secondi di silenzio Per accorgerci Della puttanata Ok Perfetto Oh ciao Ecco ti Perfetto Io ogni tanto Mi esco con delle robe Oddio Questo qua se non sbaglio C'è tipo un leggendario Di merda frate Mamma mia Ah ok Sì Questo qua è quello che diceva Il mio sogno era Lavorare al cantiere Vi faccio che mi faccia Di merda Giustamente Ok Rai fortissimo Il cantiere Un like Quale una preghiera Ecco ragazzi Fregate Un like Quale una preghiera Sali e lui sale Sale e lui sale Festone Non dovevi morire Tu Lui doveva morire Lui doveva morire Il tizio del cantiere Sali e lui sale Sale e lui sale Festone Non ce la posso fare raga Cosa ho appena visto Breaking news Il tizio del cantiere Non dovevi morire Tu Lui doveva morire Aspetta Sta scena E' già la seconda volta Che la vedo Va bene così Guarda raga Con grillo poi Raga i tempi di elezione No Non possiamo fare queste cose Hashtag Tizio del cantiere C'è delle mosse allucinanti C'è questo qua Abbene Mi si evolve Mamma mia Hashtag Acqua del tempo Di fare una bellissima cosa Io ogni tanto Oddio Qua quando non vanno Andava l'erba Madonna che sclerate Cioè nel senso Abbiamo doppio incontro Quindi Mamma mia che sclerate Mi sa che Mi sa che qua È la parte in cui sclero Proprio Dammi qualcosa di buono Madonna che facecam brutta Che aveva raga Sarebbe una parte molto Guardalo 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 Adesso sclero come un pazzo È bellissimo Questo pezzo qua È bellissimo raga Mi uccide Guarda guarda Adesso Dico una stranzata Cioè davvero Devo trovarlo lì Ma che cazzo è Ma io l'ho disattivato L'ho disattivato Il repellente Guarda Raga Questa cosa qua Veramente era un bug Per forza Perché non Non si spiega Altrimenti Comunque in descrizione Trovate tutti i video Originali Perché c'è GTA Penso sia GTA Almeno perché Non c'ho mai giocato Adesso No dai Spero che non abbia tagliato La parte in cui trovo Effettivamente il bug Perché devo avere Avuto una reazione Terrificante Ora non ricordo La parte divertente È che io non le ricordo Le cose Eh vaffanculo Ok Almeno Si evolve mai Tanto lo ammazzo Raga Tanto lo Tanto è se lo ammazzo Guardalo L'arroganza Con cui mo L'ho uccido Forse fuggono Non mi ricordo cosa faccio Non mi ricordo cosa faccio Raga O l'ho uccido Oppure fuggono Penso di utilizzare Mica sorprendimento Con John Frog E di seccarlo Penso che fosse Un bug Eh no per forza Era un bug Figliolo O così O niente Adesso Adesso raga La reaction Perché lo secco sul posto Guardate Non me la ricordo Raga è bellissimo Fatemeli più spesso Mi prego Mi diverto troppo Che è Moli E quindi Non me lo diamo E dai Dovemmo fare un battuto Di merda counter Sta per trascendere I confini Dell'esistenza Ma mia raga Che momento epico Che momento epico Incredibile Dove in far Feci merda Io impazzisco Cos'è che si Si vuole in primplop Si Oh Oh Attenzione E' vero Change non può morire Change non può morire Change non muore Change non muore Uh vita 2 Me l'avevo dimenticato Seguora Oddio questo l'ho chiamato Mincio Di tipo normale Mamma mia raga Che disastro Che disastro Schitti di tipo normale Schitti di tipo normale Eh zio Male male Schitti di tipo normale Male male Tutto bene No male male Oh attenzione Aspettate che si evolve me Io devo evitare Di cantare salvo Prego La bevuta divina Quest'acqua è stata Benedetta dalla divinità So che mi porterà fortuna Mi sa che tipo Come minimo Mi va di traverso l'acqua Come minimo Eccolo Guarda la tristezza Di nuovo raga Vai dillo Di una stronzata Che schifo Che mondo è rocet Hashtag rocet Che schifo Era molto riassuntivo Comunque come cosa La mia frase favorita La mia frase favorita Cos'è che avevo messo Rocet Lo sapevo che avevo messo rocet Era Non era neanche quotata La frase preferita La frase preferita Rocet Va benissimo Che voglia di vivere Tra l'altro questa parte qua Mi sono dimenticato letteralmente Di tagliarla In realtà Volevo tagliarla Poi non l'ho più fatto Scegliere le parole Quindi facciamo Cosa dico Molto family friend Quindi Raga questa parte qua Non doveva esserci Nel video Io faccio Raga taglio Ci vediamo fuori Poi mi sono dimenticato Non è rimasto È rimasta Sta perla Perché io Nel mentre qualche stronzata La dicevo Potete chiamarmi Ah Raga Questa parte qua È obsoleta Davvero È una delle cose più trash Che abbiamo fatto Nel video Nei commenti Si tratta Di sidra Sidri Sidratato Cioè Disidratato Perché In un deserto Capito Un cavalluccio di mare In un deserto Non è che c'è Zecca perfettamente L'ho detto davvero Signori L'ho detto davvero Io no Hashtag Creepy ritardato Nel carancio Sì ma Cioè Me le fico Soprano Inutili Megaball Dai Tipo Hashtag Creepy ritardato E ho svezzato Sì 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 Preso in te Preso in te E ho anche il soprannome Tia Questo è per te Raga Questo video qua È una compilation Di Tia Praticamente Cioè Incredibile Ho nominato più Tia Di Luke Entai Lo chiameremo Serena Lo chiamo Entai 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 Perché Serena L'avevamo già utilizzata Comunque anche prima Raga vorrei dire Hashtag Radice volante Penso che sia una perla di saggezza Eh minchia Qua è brutto Dacci la tua forma finale Qua è brutto Viene fuori Gigalit Io non so che Ho fatto un'espressione brutta Un segno qualcosa Ti prego Guardalo Ah no Prima è Mad Keep È vero Prima era Mad Keep Raga Me l'ho dimenticato Prima Mad Keep No Non posso crederci Si è diventato degno Della tua forma finale Adesso Adesso arriva Gigalit Adesso arriva Gigalit Concedimi Ho paura Dai la mia reazione Della vita Tra l'altro poi la fesca Un qua c'avevo troppo alta Però vabbè dettagli La forma finale di John Frog È un Gigalit Chi è quello raga Perché c'è un tipo Alla posta della mia faccia Ok Oddio questo è Entai Che si fa uccidere Da un Bulbasaur Leggendario Cazzo Guarda Prediletto Guarda la mia faccia La mia faccia La mia faccia è bellissima Cosa faccio adesso Fai qualche stronzata Ti prego Ti prego Ti scongiuro Fai una boiata Di qualcosa Di qualcosa Vai Vai No niente Non ce la fa raga È distrutto dentro Un uomo distrutto dentro Guardalo Ho fatto 30 Un buon motivo Per non bestemmiare La madonna Ecco giustamente Ci sta raga Una malattia gravissima Una malattia terminale Vai via Medaglia saetta Adesso Potenza perfetto Vuoi che apprendi posta Non far dimenticare Particolarmente Cos'è Perfetto Ok mi è piaciuta questa Ah oddio Qua è dove non prendevo più Mia Ciao Me la ricordo Questa Fantastico È bellissimo Lo adoro Io Ti odio Oddio E ivy come fa Pa 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 Bestemmia Dio La madonna Pa 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 Un mega assorbimento Non so tenere il tempo Questo ivy è morto Frate Io vado Al porto Eminem Nitro Raga nitro Lui Hashtag vaiolo Nei commenti Ah è vero raga Qua ci ho trovato vaiolo E tipo Muore subito Verò Quindi è abbastanza inutile Tipo dovrebbe morire In questo episodio Effettivamente Mamma mia raga Che scontro Era tutta una trollata Era tutta una trollata Guarda che roba Oh my god Ok It's happening Cos'era sta roba Cioè non so da dove viene Però non l'avevo mai vista Quella scena Che vabbè Ho capito Ma Rip vaiolo Raga Evidentemente era scarsino Mi ha aperto il culo Atomico Allora Dai Oddio Questo qua è Raich volante Raga La leggenda Che potenza Che potenza signori Mamma mia Doveva essere No 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 Non l'ho fatto apposta Questa è bellissima Sta cosa qua è bellissima È leggendaria È finita La serie è finita Uno dei peggiori finali Di serie della storia Guarda come mi metto Che cazzo Cosa sto facendo Rimarrò Per penitenza Chiuderò il video Per penitenza Raga Avete presente Tipo Jacopone da Toddy Ecco lui Penitenza Mamma mia Guarda mi tolgo anche le cuffie Che tanto Non servono più È una merda sta vita Raga io mi faccio Io Adoro tutto ciò Raga Io quando Qua è la fine del video Penso effettivamente Per rimanere sempre aggiornati Al di fuori del canale E noi ragazzi Ci becchiamo In un prossimo video Penso sia la fine Anche del video Effettivamente Sei un grande creepy Grazie Ti voglio bene Ti voglio bene Raga Stoppate sto video Ti voglio bene Anch'io Perché Rivedermi Mi ha fatto davvero Stranissimo Ho tirato fuori Di quelle perle Raga che veramente Bene ragazzi Io spero che questo video Vi sia piaciuto Sai così Vi invito Come al solito A lasciare un bel mi piace Un commento In iscrizione Al canale Se non siete ancora iscritti Fatemi sapere nei commenti Se volete Altri video di questo genere In corso di serie Per staccare Comunque Per rivivere un attimo I best of È calato il buio Nella mia città E comunque ragazzi A parte sta stronzata Che non so neanche perché vi ho detto Passate dal canale Che trovate in descrizione In particolare Dal video Che è quello originale Mi raccomando Lasciate un mi piace Sostenetelo Perché è comunque giusto Trovate anche tutti gli episodi Che sono stati inseriti In descrizione Sperando di ricordarmi Quindi nel caso vogliate Rivederli per intero Siete liberissimi di farlo Io vi invito ragazzi Anche a passare dai social Per rimanere sempre aggiornati E per accedere ai contenuti Sacri del canale E a premere la campanella Per ricevere la santificazione E allora ciao ragazzi Noi ci becchiamo In un prossimo video